ciao amici youtube sono Dagoni69 e oggi siamo qui con la quinta parte di God of War Ascension che l'altra volta abbiamo sconfitto d'un bel fiocco di neve adesso andiamo avanti con l'avventura del nostro pellattino preferito arpie del cazzo eh che schifo è la fionda ah no anzi è utile dai si fiondiamoci sugli avversari ah vita c'era bisogno di vita madonna arpie del cazzo arpie ma quanto cazzo ci mettono a morire ste cazzo di arpie cazzo se sono resistenti ste arpie vabbè cazzo se non sei forte come nel 3 o nel 2 ma cazzo fai cerchi e stop lì le ali va bene va bene ragazze va bene va bene va bene così salta oh sì salta ah mio dio mio dio mio dio oh mio Zeus oh mio Zeus oh mio Zeus uh l'avevo visto brutto pensavo che che mancava uh sì mi piacciono questi paesaggi così dai pelattino su che ce la facciamo salta ok cos'è tutto cos'è il gioco gira la ruota what the fuck è la ruota della fortuna quella lì ah le caprette hanno le fionde eh caprette incazzose eh ahia mi avete beccato bastardo eh caprette incazzose toh toh fionde dappertutto fio ok devo tirare la leva ok nessun problema nessun problema aspetta però ho visto quel co ecco ho visto la roba rossa dietro eh ho visto visto si di cattiveria oh si mi piace un casino come li apre sti cosi perchè non lo fa anche su quelli verdi e quelli blu ci metterebbe molto meno c'è un mucca morta intanto guardate lì ah ma c'era vabbè prendiamola non si sa mai ok la lancia e attiviamo la ruota della fortuna gira la ruota yeah yeah gira la ruota yeah yeah puoi giocarci tu anche tu non me la ricordo la canzone perchè è da tanto che non l'ho visto che non lo vedo scusate eh povero mike buongiorno oh oh che cazzo è successo what the fuck oh ah si era bugato tutto ho visto cose che cazzo non può neanche immaginarsi ho visto il terreno le texture del terreno diciamo vabbè ho salutato male ok rifacciamo gira la ruota yeah yeah gira la ruota yeah yeah na 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 ok veloce veloce pelatino veloce pelatino oh che cazzo ma mi stai prendendo per il culo ruota di merda ma che cazzo no 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 qua non ci siamo capiti porca puttana qua qualcuno mi sta prendendo per il culo ok dai e la terza volta sarà la terza volta buona di solito ma si dice anche non c'è due senza tre quindi o sarà questo sarà la quarta vediamo beh su vai pelatino cotus ecco qua la terza volta buona ecco fanculo 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 e fanculo anche la ruota si ok gira la ruota yeah yeah gira la ruota yeah yeah na 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 cosa c'è qua ok si è sempre morte oh c'è una porta e c'è anche qualcosa per terra povoretti non gli facevo nientrare mi dispiace beh oh che cazzo stavo per cadere dai cazzo cato se non vedi che c'è il passato ecco si palpeggia il muro palpeggia il muro si guarda come palpeggia il muro con le sue mani forti e tutto si palpeggia il muro si guarda come gode la roccia si palpeggia il muro si mi faccio schifo da solo ma palpeggio 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 il muro si basta basta palpeggiamento oh vai di merda avete rotto il cazzo noi siete inutili siete so piccoli e fastidiosi ok posto ok meglio così mmm rosso ti ho visto e c'era anche una lettera ah è sempre un messaggio si ma ovviamente lasciamo i fogli così alla cazzo per terra va bene mi sembra logico mi sembra logico e scivolata no quel cazzo oh fa un culo oh mio dio cani incazzosi e arpie ancora più incazzose via via andate via da me via via essere schifosi oh siete dei mastini via via oh cazzo c'è l'arpia incazzosa ma l'arpia qua cazzo gli è successo sono diventate straforte siiii con questo sconfitto dumbo e dumbino e fiocco di neve anche siiii cani del cazzo andate ad accoppiarvi non rompete il cazzo ma arpie guardale ma si fa neanche prendere sto gioco però con cerchio che puttane sta fastidiose oh siiii ares ira di ares aia merda toh adesso rimanete solo voi l'arpia del cazzo oh oh cocua no l'ho ciccata ma mmm ok vola vola l'arpia ok così così devi prenderle cazzo allora le puoi prendere cazzo dimmelo prima oh cocua oh sii morta ecco prendiamo rosso oh prima c'è qualcosa lì ok thank you e rosso e vitta e basta magia col cazzo che me la danno ok va bene va bene ho capito che la magia non me la date uh scale corridoio oh qualcosa che gira cos'è un rotolone a regina cos'era che cazzo è che gira eh e fammelo vedere però mhm cos'è che gira oh mio dio il rotolone a regina non finiscono mai di rompere il cazzo sti rotoloni mhm siiii andiamo di cattiveria qua cosa devo fare devo tirare tutto ok qua blocca e io posso andare no cazzo no merda oh ok sono morto si era tanto alto e ci ha messo un po' a cadere ecco perché ci ha messo così tanto tempo a cadere a farmi vedere morto game over vabbè dai carica carica ok c'è ancora il rotolone a regina che rompe il cazzo oh merda ok di culo di culo su non dato allora 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 qua dovrò aspettare il momento giusto per bloccarlo vediamo tirare un'altra leva ok tiro anche questa ok e tiro anche quell'altra cosa meno dai va a fanculo non ce la faccio ok dai su 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 no c'è cattos no c'è oh merda oh si culo ce l'ho fatta si guarda quante robe c'è non li hanno nascosti tanto bene però sti occhi e e le piume guarda ha continuato a varli ah quello dopo la cazzo ah ok 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 capito capito si è bloccato il rotolone si ho capito che ci sono le scale là si gira la ruota yeah yeah gira la ruota yeah yeah e il rotolone perde ci sa oh qual posso non posso andare ah ti sei fermato lì è il rotolone di merda ciao ciao il rotolone ci vediamo in una vita migliore ciao ciao scale yeah yeah oh le scale yeah yeah na 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 cos'è? zoom verso cosa? oh 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 le assi di legno oh 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 dai su dai pelottino mio ovviamente adesso ci saranno i nemici che non mi vogliono fare salire no stanno mi stanno prendendo per il culo oh oh si sembrano fatti di pongo queste cose ma va bene oh cosa sono quei fonii? oh mio dio che orribili quelle statue sono orribili si energie cattos cosa? oh mio dio oh una medusa che merda quella non è una medusa è un cobra oh mio dio cos'è? oh cattos cos'è quel coso lì? vabbè non ci facciamo domande come l'hanno modificata la medusa? è orribile la preferivo con la faccia umana io cos'è orribile già beh era già brutta prima ma almeno era più più guardabile adesso è ancora peggio eh il raggio lo fa... ah no no sono ho cambiato colore ecco ah oh no ok dai che cazzo sei una medusa cobra ah ah seti squarto muori muori baldrak si oh il martello per quel cosa sai ahia sei fortunato che non ho la magia cazzona ah ahah cosa? eccolo qua oh si di cattiveria io sono kratos lo sterminatore e lo stupratore di medusa si e per i peggiatori di muri vai si oh sei già fottuta eh zocco leona eh ah ok ah ah ecco il cazzo io schifo cazzona si oh mio dio cosa gli farà? gli stacca la testa? oh guarda dai che così prendo la tua testa si no cosa fa? che cazzo vai oh si no che cazzo fai? la testa serviva sei stupido perché l'hai rotta? l'hai spaccata a metà ah cosa c'è qua? allora perché me l'hai messo lì? stupido stupido cosa? oh mio dio a prendere la testa? no era difficile è vero? ah che cazzone che cattos mmm palpeggiatore di muri sei solo un fottuto palpeggiatore di muri no scusa scusa non volevo cattos scusa non voglio offenderti oh finalmente magia ah ce l'avevo già vaffanculo beh ragazzi forse il video è meglio finirlo qua lo faccio corto così almeno la prossima parte la farò più lunga e grazie della visione ciao ciao ciao